ANSA, Lima, 10 giugno l'Ufficio Nazionale per i Processi Elettorali, Pompe, ha annunciato ieri sera la fine dello scrutinio dei voti espressi nel ballottaggio presidenziale del 6 giugno, con un risultato definitivo che sarà però corretto dalle decisioni del Tribunale Nazionale Elettorale, Ilunga N.E., che deve esaminare i voti di 755 seggi in cui sono state riscontrate irregolarità. Il candidato Pedro Castiglio, Peru Libre, è stato accreditato di 8.803.712 voti, equivalenti al 50,19%, mentre la candidata Keiko Fujimori, Fuerza Popular, ha raccolto 8.735.239 suffragi che rappresentano il 49,81%. La differenza in termini di voti è di 68.473. Altro tema ancora irrisolto, infine, sono i ricorsi di nullità presentati da Fuerza Popula Re che riguardano 802 seggi per circa 200.000 voti, per cui Ilunga N.E. deve decidere il da farsi. ANSA Grazie a tutti. Grazie a tutti.